Di Sante, Rifondazione Comunista critica anche in maniera aspra la campagna vaccinale della regione Abruzzo, anche e soprattutto in riferimento a quello che sta accadendo a Pescara e Montesilvano. Perché queste critiche? Perché Marsilio e Verì hanno fallito la campagna vaccinale perché non esiste un cronoprogramma, non esistono criteri e manca trasparenza. E quindi poi chi arriva primo fa. E siamo ormai all'assurdo dove ogni ASL sceglie il suo criterio, all'ASL dell'Aquila si fa per sorteggio. A Pescara, per esempio, per gli insegnanti si è cominciato con un criterio al Palabecci, si è proseguito con un altro, con la lotteria dei click, a Montesilvano per il personale scolastico. Questo è quantomeno assurdo perché la vaccinazione non può essere legata a chi meglio si organizza. Una vaccinazione che ha riguardato soprattutto fino a questo momento i cosiddetti fragili, la popolazione anziana. Da questo punto di vista però molti anziani sono stati già vaccinati. Ma questo non ha riguardato ancora le persone fragili, perché le persone fragili con disabilità e anche gravi non ancora vengono vaccinate e tutto di là da venire è un piano per la loro vaccinazione. Non è stata somministrata ancora la seconda dose a molti ospiti di residenze sanitarie e al personale socioassistenziale. Ad esempio, quello che è accaduto a Montesilvano è che per poter vaccinare il personale scolastico di tutta la provincia di Pescara è stata bloccata la vaccinazione degli oltreottantenni. Quindi sono stati dei fortunati, 1.300 che hanno già avuto il vaccino, e altri, ovvero 80, che devono avere il vaccino, che invece aspetteranno la fine del personale scolastico. Questo perché? Perché 1. C'è una carenza di vaccini e quindi noi chiediamo che l'Italia firmi insieme a Sudafrica e India per sospendere i brevetti e cominciare a produrre i vaccini nelle aziende farmaceutiche qui in Italia, quelle tecnicamente avanzate. 2. Manca il personale per somministrare i vaccini, è vergognoso che siano i sindaci a dover fare appelli per infermieri e medici e rifarsi sul personale volontario. 3. Lo ribadiamo, Marsilio e Verì hanno fallito perché non c'è un crono programma, non c'è un criterio, non c'è trasparenza.